Aumento dei casi tumorali nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, subito l'intervento della Procura e una maggiore collaborazione dei sindaci. Unanime l'appello lanciato a Vallo della Lucania. Sui dati presentati sabato mattina dai medici di base non c'è alcun dubbio. Ci si ammala e si muore di tumore più a Vallo della Lucania, sapri che non abbattipaglie deboli. Nella terra, patria della dieta mediterranea e delle tante bandiere blu, le comunità locali sono maggiormente a rischio rispetto ad aree industriali e metropolitane. Con dati alla mano avrà necessario capire le cause perché nell'aria protetta l'incidenza di alcuni tipi di tumori è in percentuale il doppio rispetto ad aree della provincia di Salerno che si trovano praticamente ai confini del parco. Un nodo difficile, se non impossibile, al momento da sciogliere. I dati raccolti dalla cooperativa medica Parmenide, grazie alla collaborazione di 168 medici di base, non possono non scuotere le coscienze di chi ha nelle mani le sorti del territorio cilentano. In primis i sindaci, praticamente assenti all'incontro di presentazione, solo il sindaco di Vallo, Tony Aloi, è seduto in prima fila con un paio di colleghi su una cinquantina di primi cittadini invitati. Non vogliamo creare allarmismo, dice il presidente della cooperativa Luigi De Gregorio, ma è necessaria la collaborazione di tutti. Bisogna che questo campanello d'allarme lo sentiamo tutti quanti. Riusciamo con grande difficoltà a coinvolgere gli enti locali in questo, eppure i sindaci sono quelli che praticamente incarnano la sanità nell'ambito del loro comune. Sono la massima autorità sanitaria, eppure c'è ancora un po' di superficialità nell'approccio a questo problema. Noi dobbiamo stare attenti soprattutto a trasmetterlo ai giovani, ai ragazzi, questo tipo di attenzione. Dobbiamo stare attenti ai comportamenti a rischio, al fumo, all'alcol, alla dieta. Facciamo tanto parlare di dieta mediterranea, abbiamo realizzato questo patrimonio immateriale dell'umanità, però poi sul piano pratico magari lo facciamo poi. In base ai dati elaborati su circa 200 assistiti, i distratti sanitari maggiormente a rischio sono quello di Sapri e di Vallo, quindi nel cuore del parco e lungo la fascia costiera. Un'anomalia per un territorio da sempre impegnato nella tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche e naturalistiche. Ne è convinto anche il virologo ed oncologo Giulio Tarro. E' importante, dice, approfondire i dati. Alla luce di questi dati, la comunità locale deve iniziare a preoccuparsi, secondo lei? Ma io penso che è stata ottima l'osservazione dei medici di base che ci sono delle differenze. Ci sono delle differenze nello stesso territorio. Chiaramente queste differenze vanno spiegate. Prima si fa l'osservazione. E poi gli strumenti adatti per capire? Credo che oggi, diciamo, si comincia ad avere gli strumenti adatti nel senso che la possibilità di poter fare una prevenzione, quindi di una diagnosi, per quello che si dice, precoce, non solo per cosa dire, nella chelazione come diagnosi, ma anche nella relazione come terapia. E ovviamente in tutta questa situazione c'è bisogno di uno screening sul territorio, e quindi uno screening degli abitanti e quindi ovviamente le risorse sanitarie adeguate allo scopo. Ma noi viviamo la terra dei centenari, tantissimi nonneni che hanno superato i 100 anni. Ecco, è un po' un controsenso. I giovani si ammalano, quindi vuol dire che qualcosa è accaduto negli ultimi anni? Lei dice, bene, d'altra parte noi possiamo andare a vedere quelli che sono i dati statistici ufficiali, nell'ultimo, io direi, i ventenni, anche se sono già dati, per così dire, già di due o tre anni addietro. Perlomeno la Cenerentro è una plecca certa, però fortunatamente Avellino, Salerno e Benevento, perché di avere una longevità migliore della media italiana. Oggi che in assoluto si campa di più, si è passati dai 75-80 anni, però guarda caso, tutte le province campane sono in negativa, perciò si è anche raddoppiato, diciamo, anche nelle province, diciamo, che erano migliori del resto dell'Italia come me, oggi si muore prima e qui in un certo senso quasi in media due anni di meno del resto dell'Italia. Ma la visa mediterranea che fine ha fatto? La visa mediterranea, probabilmente, ci permette di non approfondire questi problemi, senza che sicuramente la visa mediterranea, visto che i tumori a livello alimentare, per così dire, sono un terzo responsabile, chiaramente copre per tutto. C'è qualcosa che non va. Ma non per tutto. Grazie.